buongiorno scendo a fare colazione e poi vi do una super notizia che ieri sera ho preso tipo a mezzanotte quindi fai come gli americani che mangia il burro d'arachidi sul panino al prosciutto perchè non lo metti adesso lo metto ma tu sei sicura che poi lo mangi il panino qua no sì ok se non lo mangi dammi il cucchino che lo lecco dai vediamo se mangi sto panino chiudo no sì o no vai ma che bello ecco sono riuscita a liberarmi un attimo da mia nipote perché stamattina avevamo anche il tecnico della caldaia qui a casa e quindi sono stata dietro a lei e ora l'ha portata fuori un po mio papà tra poco quindi vado poi anche preparare da mangiare e nel mentre vi volevo dire che ieri ho fatto questa pazzia e ho prenotato finalmente per andare a stoccolma trovare la mia ex coinquilina a settembre ma la follia è che praticamente parto il 5 settembre all'alba cioè partiremo tipo alle 4 e mezza perché danni mi porta a bergamo l'aeroporto e poi lui va diretto a padova si ferma qualche giorno a padova torno il 10 sera e l'11 mattina sono già in altro in un altro aeroporto quello di malpensa dove vicino a casa mia per partire per praga quindi sarà una follia ma sono super felice e contenta mi organizzerò preparare già tutta la roba per praga prima così quando torno faccio semplicemente uno switch di zaino e parto di nuovo per l'aeroporto però sono tanto contenta e quindi e quindi niente sono felice poi sarò il giovedì arrivo al mattino e dovrò stare da solo in giro per stoccolma perché la mia amica lavora e sta facendo il tirocino quindi poi ci vedremo la sera che torno vado a casa sua e quindi sarò in giro il giovedì da sola e anche il venerdì mentre sabato e domenica poi saremo insieme e lunedì nel primo pomeriggio riparto quindi avrò ancora un po la mattina del lunedì per girare un po da sola e poi insomma riparto però sono tanto contenta spero che la mia cucina organizzi un bel giretto poi le darò tutte le indicazioni tutte le cose che vorrei vedere e anche se poraccia sarà stufa con tutte le persone che sono andata a trovarla ormai avrà visto sempre le stesse cose duemila volte e però io sono troppo felice da quando sono piccola che c'è piccola no però un bel po di anni che voglio andarci a soccolma quindi ho appena fatto una cosa che tutti gli italiani mi ricremineranno ho tagliato gli spaghetti ho spezzato gli spaghetti per forza per mia nipote addirittura lei mi ha spezzati tanto così adesso non esageriamo spezzati a metà è sufficiente eccomi qui finalmente un po di tregua da mia nipote che è colla crollata e ne approfitto per riposarmi anche un po perché sono già esaurita e niente quindi ora leggerò un po e speriamo che non si risveglia perché nel mentre che le ha già dormito quasi un'oretta ma io ho dovuto fare altre cose quindi speriamo ad ormai ancora un pochettino mi stai lavando allora devo essere sincera che oggi ho abbandonato mia nipote abbandonato per modo di dire nel senso che è stata con i miei fuori perché non ce la faceva stare era troppo caldo quindi sono rimasta dentro a leggere un po tra l'altro ho letto tantissimo poi sono uscita un po abbiamo ci siamo un po bagnate si è rotta la piscinetta quindi io sono riuscita a usarla una volta basta già rotta e quindi domani mattina abbiamo un bel programmino andiamo a prendere mia nipote a casa andiamo a fare colazione con i miei e poi andiamo a comprare la piscinetta nuova e quindi niente adesso mi vado a preparare la cena farò prosciutto e melone tra l'altro sta venendo un po più originale ma non so quanto durerà e così magari quando riesco a camminare se essere ancora bello fresco come ieri eccomi qui per la mia passeggettina serale post cenetta se sarà prosciutto e melone molto leggera e mi sono guardata al ginastica artistica quindi volevo andare via prima tanto avevo già capito che l'italiana purtroppo sarebbe arrivata a quarta ma volevo troppo vedermi la bais e quindi sono rimasta fino alla fine e adesso faccio due passi come sempre sempre cielo meraviglioso anche stasera e ascolto i vari vocali della giornata ormai l'ho preso come momento mio della sera in cui mi dedico un po' a me stessa ascolto appunto i vocali i messaggi delle mie amiche e poi torno a casa faccio una doccina e niente allora la mia camminata si è interrotta perché mentre camminavo ho beccato una mia amica che non vedevo da un po' e che tornava verso casa e mi fa dai che ti do un passaggio che sta diventando buio e quindi poi ci siamo fermate a chiacchierare fino adesso che sono le dieci quindi niente camminata interrotta e quindi niente ora io vado a farmi una doccina mi sono un po' sballati i piani che si è fatto un po' tardi quindi io vi saluto e vi do appuntamento domani come sempre qui vi lascio i miei social vi invito a lasciare un like a questo video se vi è piaciuto e come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo domani ciao